Ti ho portato una cosina Per me? Ah, delle caramelle a forma di cuoricino, belle Cene Gen Forever Le ho fatte fare speciali Gen Z Ascolta Gen Z Non c'è un modo per dirti questa cosa qua in realtà O comunque non c'è un modo nuovo per dirti questa cosa Cioè che io ho pensato, stavo pensando, ho pensato, io ho pensato che le cose tra di noi non possono funzionare forse Va bene Come? Veramente? Sì Perché tanto so che questa non è la fine No, questa è la fine No, non l'ho Questa è la fine Perché tu farai in modo che non lo sia Non l'hai ancora capito? Tu mi ami, Chandler No, 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 io non ti amo Sì, invece No, io non ti amo Ok, allora fatti due domande Perché finiamo sempre insieme noi due? Vigilio di Capodanno? Chi ha invitato chi? San Valentino Chi ha chiesto a chi di andare a letto insieme? Sono stato io, però Lo vedi? Tu continui a cercarmi E c'è qualcosa dentro di te che mi invoca come... è come il richiamo di un corno Janice Janice Tu non puoi vivere senza di me Tu non puoi fare a meno di me E lo sai Solo che non sai di saperlo Non è ora Ci vediamo Ciao, ciao, mi